Io voglio conto che siamo conosciuti, io trovo sorprendente alcune discussioni, te lo dico molto sinceramente, Mario è l'unico dirigente amministratore particolare che fino al dicembre dell'anno dicembre del 2014, 2018, è l'unico amministratore che ha passato una vita intera a fare l'amministratore, non in Palazzo, certo ha avuto anche un'esperienza di parlamentare ma è stato un lungo amministratore, non ha obbligato nessuno di avviso di garanzia per i 40 anni e non ha affatto il mio amministratore. Grazie a tutti. Con la giustizia si discute, si accetta, siamo tutti chiamati a essere giudicati, lo facciamo a viso alto, guardando in faccia, discutendo delle questioni su cui ci si è interrogati, avendo la consapevolezza di avere sempre sforzo tutto questo interesse generale dello sviluppo della crescita in questo territorio. Quindi, cari compagni, cari amici, capisco tormento, capisco anche la discussione, ma adesso è l'unico momento, diciamo, del combattimento dell'attività. Io vorrei invitarvi tutti quanti voi, per quanto riguarda, diciamo, io vedo questa discussione e più ritorno in Calabria, più ho cercato di essere vicino a tutti quanti voi, alle battaglie che state conducendo, alla sfida che state facendo. Io penso che se lo facciamo con questa unità e con questa determinazione verrà il tempo al cui potremo raccogliere fiducia estiva dei cittadini, per cui conoscono la nostra storia, la nostra vita e anche la nostra esperienza. Grazie. Grazie.